Aspetta benvenuti con questo nuovo video io sono Ernesto J siamo oggi di nuovo su smash bros è questo come vedete qua qua è tutto smash quindi Ah ma si deve essere un controller Yeeeh Sigla Porca migliotta che tengo una sigla Mischio Tutto contro tutti Ci scegliamo Questa è la seconda parte Cade in falcon Donkey Kong Falcon Poems Oh sì Poems Ok ragazzi Dobbiamo battere Maio Io me ne vado all'altro nome Oh ragazzi avete visto che figata Oh sì ragazzi guardatelo qua guardatelo Dai Mario vieni Ma come ti sei permesso Mario Eh come ti sei permesso Ma Mario è stronzo Ci gioco pure giochi Di Mario Oh ragazzi Sono morto È morto Prima Mario e poi io Ok ragazzi facciamo fuori Mario Vabbè abbiamo fatto fuori due volte Oh questo se prendiamo tutti i pezzi ragazzi Una forte squadra Oh ragazzi Oh ragazzi Che mi beva Nell'acqua Eh nell'acqua Nell'acqua Non facciamo pubblicità Non facciamo pubblicità Ma è carta I due soldi dove è? Gliel'ho data alla nonna E non è solitanto risante Ok ragazzi Io ho detto una cosa a mio fratello È una sfida fatta in quattro minuti Villagerò Abbiamo messo Animal Crossing Ok Altri quattro minuti Oh no ci vuole due minuti Nya 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 You Che è più forte Io Dai Shulk Non sai fare un cazzo Anseg mobile Anseg mobile Oh ragazzi Oh mi ero ricordato Oh mi ricordo Razzista Fai smash I palloncini quando servono Nonna Ok ragazzi Ho preso della smash Fai un cazzo Fai un culo a te Se la volete Se la volete trovare Non si trova Di nessuna parte Ok Ok Io sono già in squadra Sì è già in squadra Aspettate ragazzi Aspettate ragazzi Devo eliminare un attimo Little E noi ci mettiamo Ovviamente Il nostro preferito Bowser Peach Luigi Luigi Mario Ci prendiamo Uno con i muscoli Più Mike O ci prendiamo Sempre Little O è affanculo Le ninja Ok ragazzi Chi è più forte? Chi è più forte? Ovviamente io Perché Ragazzi Guardate qua Come lo sbatto pure Ok Chi cazzo Vuoi dare la mia vita? Chi cazzo Vuoi dare la mia vita? Chi cazzo Ho fatto? Non lo so Eh Io sono un pokéball Oh ragazzi Però è spettato Che non c'è O starino Uh Mi cazzo Mi deve buttare A me Chi Mi c'è Sono tornato Sui Sono tornato 29 secondi 29 secondi ok 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 dopo la pokeball ok ragazzi se il video vi è piaciuto commentate qua sotto scusate se sono stato come questo stato se il video vi è piaciuto mettete un like mettete mi piace iscrivetevi al canale ciao ragazzi grazie a tutti